Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, questo sarà un video diverso dal solito. Non sono appunto solita a fare video trigger, ma perché in generale non è uno dei video che io guardo, perché non mi rilassano. Anzi, molti trigger mi infastidiscono, però cercherò di fare un video comunque di suoni più vicini a quel genere che piace a me. Io diciamo che prediligo i suoni calmi, pagati, non troppo forti e veloci. Comunque mi farete sapere un po' cosa ne pensate magari nei commenti, visto che appunto è una tipologia di video che non è presente spesso qui sul mio canale. Però volevo fare questa prova perché se sono alternati alla voce, devo dire che mi rilassano. Sono un po' particolare ragazzi, ma come sapete l'smr è particolare, non è uguale per tutti. Ognuno ha ciò che lo rilassa di più. Quindi cominciamo subito. E tra le varie cosine a cui ho pensato mi è venuta in mente questa collana che so che vi rilassa tanto. Quindi mettetevi comodi, comodi, comodi che iniziamo e prendetevi un momento per voi. E' una collana che ho preso a Miami. da Abercrombie, mi aveva fatto innamorare, era davvero bella. No e' un po' particolare. No! Non è abbastanza differenta sentenza o non è essere un momento per voi. Ma non è successivamente questa racità, non è successissata. E' un po' particolare, non è illnesso che conoste conti. Quindi, sortiơisim relapsate all'attambienteångele sicppi che risography e non nella mio non è passata ne così da solo. ok Ok, passiamo a un altro trigger che mi piace moltissimo ed è il tapping fatto molto molto piano. Utilizzerò questa boccetta, è un siero con delle scaglie di oro al suo interno. Ok, accontentatevi delle mie unghie che oggi, cioè in questo periodo non sono molto lunghe. Mi ero stufata di tenere le unghie lunghe, preferivo averle corte. Ok. 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 Il prossimo trigger a cui ho pensato è questo. Che sia pazzoletti oppure anche le salviette. Proprio il rumore è molto simile ed è molto rilassante. Questo lo vedete pieno perché io uso i dischetti lavabili e questi li tengo proprio in necessità se dovessero servirmi per qualcosa in particolare. Allora, ecco. Ok. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Passiamo al prossimo trigger è un po' particolare come potete vedere questi sono solo alcuni dei bottoni vintage che ho io li trovo stupendi davvero particolari mi fa ridere perché in questo mia figlia dice che dentro c'è l'uovo è un po' particolare è un po' particolare guardate questo che bello sembra una caramellina una mintus e per penultimo andiamo con i dentini in silicone ce l'ho sia in questa spazzolina che in un'altra spazzolina che è più un lavapennelli ma al momento non la trovo forse l'ho buttata via è super super delicato è super delicato come trigger molto leggero per questo che mi piace mi rilasce è un po' particolare che mi piace è un po' particolare che mi piace è un po' particolare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ultimo trigger sarà... Ok... Perfetto... 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 Ok... 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 Ok...